Noi riteniamo che in Italia si debba sicuramente aiutare la digitalizzazione, però d'altra parte non ci si debba dimenticare anche che in Italia c'è un retail molto sviluppato, ci sono tantissimi punti vendita, nel nostro caso Barta, Bacchi ed Icole con cui noi lavoriamo e vogliamo continuare a lavorare. Poi naturalmente c'è lo sviluppo digitale che noi stiamo sostenendo, cercando di offrire ai nostri clienti anche l'opportunità di giocare con i nostri giochi e di effettuare i pagamenti con CisalPay in maniera digitale, quindi con lo smartphone o con il PC o comunque in remoto da casa.